alleanza assicurazioni alleati per la vita dal 1898 al 2015 117 anni di stabilità solidità e rendimenti da oltre un secolo mantiene le promesse sicurezza protezione e risultati cogli le migliori opportunità di protezione investimento e fondi pensione affidati ad alleanza assicurazioni e troverai la sicurezza l'esperienza e la professionalità 2 milioni di clienti 45 miliardi di euro investiti a tutela degli assicurati 14.500 collaboratori 1300 agenzie tutta italia ci trovate anche a pieve di calore galleria centro a ponte delle alti in viale dolomite 23d e agorto in via teatro 1 alleanza assicurazioni via sant'andrea 14a belluno grazie